Ma non iniziare a spiegare adesso e parti con sta cazzo di live, per favore. Era la ora, porca puttana. Eh, sei minuti di ritardo, dai. Eh, sei minuti di ritardo. Lo faremo sei minuti in più. Però dico io dove sta il ritardo qui. Nella testa? Io l'ho capito. Una testa senza cervello di qualcuno. Allora? Quanto, quanto, non ho detto il nome. Non ho detto il nome. 60 minuti. Bravo, complimenti, eh. Hai visto? Ho preso dal piccione. Dal piccione. Dal piccione. Dal balcone. Eh, dal piccione. Hai creato il mondo, smorg. Aspetta, ecco, mi sento nel... Ah no, è Esprit. Crea un mondo intanto. Ma io dovrei andare al supermarket. Allora, voglio... Buongiorno. Ma senti, c'è Esprit che si sente come se fosse dentro una casa. in una chiesa. Bellissimo. Eh sì. Però ti si sente, dai. No, però si sente bene. No, in realtà si sente comunque. Fai il papa, fai. Purtroppo Esprit ha spacchiato le cuffie. Perché un deficiente è. Si è seduto sopra. Si è seduto sopra e si è rotto. È la maledizione della fibra, guai. Da quando ha avuto la fibra ha rotto tutto. Rainbow Six, tutto, tutto. Sì, sì, ma poi Rainbow Six ce l'hai fatta recuperare la casa. Sì, sì. Ho giocato anche... Ma ha anche stremato, yep. Cuglioni. Mi dice a me che non ci devo dormire. Mi volevo ricordarmi. Aspetta. No, non sta stremando in otto. No, tu ci rimando io perché c'ho una cazzo di cavolo. Mi grida sempre che mi dormo con le cuffie. Senti che voce adesso che c'è. Ma queste parole sono le pietre. Mi sembra triste adesso. Ma hai rotto, pognoni. Ma è successo comunque. Io sono dentro. Ah, che figo stai. Fammi prendere il coso che mi serve. Sentilo come è triste. Buongiorno persone, buongiorno. No, non so, nel portale ti faccio. Quanto caricamento porta il nai? Nel Dottor Inbox X. Spiegiamo un po' sto gioco, vai moro. Spiegati il gioco. Non spiego il niente io. Ok, bene, questo lo spiego io. Questo qui è Minecraft però più bello. E non è vero neanche, tra l'altro. Beh, oddio. Puoi mettere i cubi, quindi quello sì. Io vi parlo dove cacchio voglio, va bene, in chat. Ma non essere triste, eh, spirito, che mi dispiace poi. Allora, vediamo cosa c'è qui. Ci sono due torri. Cosa c'è, Iara? Ciao, Sara. Cosa c'è però gli Ezzar? Parli? Eh, spero. Ma cosa c'è? Ma hai fatto una cosa nel gioco. Ma comunque, para, posso dire. Ah, che orco che c'è laggiù. Allora. Che stasso giusto. Hanno aggiornato H1Z1. Cosa hanno messo? Il logo giallo. Bene. E' la cosa importante, no? Patti da gigante, dai. Vado, vado a vedere. Grazie Zack Roods. Grazie mille. Comunque, vediamo laggiù. Ci sono due torri. E c'è anche una casetta là. Eeeh. Guarda che è un bel giocchino colorato. Non posso vedere, non posso vedere. Non posso vedere, non posso vedere. Ma, eh, merda. Ehm, me li cimolo questi qua. Soprattutto questo orchetto qua che... Aspetta che c'è questo qui un attimo. Ah, merda, mi ha calato. Aspetta. Ma guarda quanto sono potente io. Ma che palle che si cagano addosso questi qui. Cosa vuol dire? Se l'ho andato. No, prova. No. Ma non stare a smadonnare col microfono. Va bene così, va bene. Ma in live ti dicono che si sente diverso perché ti sentono diverso. Ma è normale, ma si sente comunque bene. È normale, c'è il microfono di merda è normale. Eh, ma si sente comunque. Ma è in mura. Eh, perché si parava. Che bonti, che compresi. Ma era veramente carino. E' una cosa la sfiamata tu da davanti. Espetta, piazza le banche qua. Sì, è un po' conclusione. Cioè, quando combatti non c'era bisogno di mettere le banche inere sotto il solco. Sì, hanno messo la modalità cinematografica. Di combattimento. Perché già la visuale è piccola. È il lock, praticamente. È l'equivalente del lock. Ho capito. Il visuale cinematografico. Come nei giochi vecchi. Ma quello è quindi un casino. Ma non serve a niente questo qui. Ma che tanto non serve perché il lock ha lento, quindi tu attacchi e attacca lì. Negli Zelda c'era. Esatto, è la telecamera di Zelda quella. E' merda, l'unico dell'alchimia dove è finito. Eh, servo la fornaccia. Ah, la fornaccia si è iniziata solo io. Aspetta. Eh sì, coglioni. Ah, sono morto. Anche quella dell'alchimia. Avete detto che siamo due guerrieri, un maghetto e un arciere? Non gliene frega un cazzo nessuno, va bene. Adesso che lo sanno sono tutti contenti. Allora fammi mettere. E quindi sei contento tu. Ma tra l'altro non si può neanche ricreare il mobile dell'alchimia. Ma sono fottuto adesso. Ma ce l'ho io, ce l'ho. Il limite di multiplayer qual è di questo gioco? Che in quanti si può giocare? Quattro? Quattro, credo. E dunque non sei un 4 di 4, quindi si chiama. Aiuto. Sì, 4 di 4 mi serve. Sì, no, quando crei il mio server la metterà di qua. Ah, io non so. Tadà! Ciao. Ciao. Io scommetto che Uti 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 è quel pirla di moro. Uti 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 Uti. Va bene. Sapete, se c'è una cosa in mio passaggio che non lo vuoi. Fate lanciare un razzo. Ah ma puttana, ma il razzo sono io sono. Cosa? Ma dove sei andato? Il razzo io posso non lanciarsi. Sì, non c'è. Allora? Questo è finito. Che sei tu? Ottimo. Cosa sta facendo quel deficiente lì sotto? Stai prendendo un motore gigante e io. Che fai. No, Robin. No, è sprint ancora. Si sta fabbricando la bacchetta magica? Sono andato per me, sì. Devo fare un po' di roba, va là. Qui c'ho il cotone. Quel cotone è quello che si passa? Nei rotoli. Scusa, non posso fare un sacco di roba adesso con lo smerato? Però mi manca legno e una barra di rame. Come la faccio la barra? Eh, la sei, la devi fare qua come sto facendo io, stessa. Ah, aspettano. Serve il carbone anche perché il carbone c'è qui in giro. Come zaino pieno, stessa. Aspetta che ci ho lasciato tutta lontana. Fai prendere gli alberi. Non mi sa lontano. Tra l'altro, Esprit, sai che c'è una cosa molto particolare in live? Non so se sia un effetto che hai aggiunto con UBS, anzi, è possibile, perché si sente il riverbero. Ma il prolettoio sembra in chiesa, però... È sembra in chiesa. È arrivata una donessa, tra l'altro. C'è la soppressione rumore su UBS. Cosa? È arrivata l'adorazione di Age of Game. Age of Game. Age of Game, sì. 1,50 euro, poco più per il funerale di Esprit che è passato a miglior vita. Dalla voce a crescere è stata una divinità. Mi protegga dalla stessa. Come euro è il tempo? Grazie mille. Ma quanto secondi ascolta e mi ricomento, perché ho il parolo, vai, funziona, vai, funziona, funziona. Mi mangio le carote, va. E devi andarlo a trovare, se stai lì, con le mani in mano, metti le mani in lato. Eh, ma il rame è sempre... Ci sono sperando, che schifo. Parla di rame. No, rame c'è in realtà. Carbone. Ma il carbone non si trovava mica bene. Sì, è arrivato. È arrivato Oronzo. Ciao, Oronzo. Io sono Arro. Va bene. In culo, più me ne vado e io arrivo a essere in casa. Tutto i modi, arrivo io, dai. Eh, perché di salvarlo non è che tu, tutta la volta. Ah, qui sotto c'è... Dungeon, quello con la cassa. Sotto la cassa. Oh mia, figlio. Ho fatto male, ho fatto. È vero solo che non ci vedo di tanto di niente, porca vacca. Ok. Quindi c'è giù? Arriviamo. Ma dove sei tu, voi? Somma, il gatto è lo youtuber. Ah sì? Dove sei un youtuber? Gatto di... Chi è che c'è il gatto? Il jazzer? No, l'esperit. L'esperit. Però Karim vuole scoparsi il cane di jazzer. Cosa? Cos'è? Quando è bot? Stando a spacco, bozzi. Ah già. Perché io non ho il cane, tra l'altro. È questo il twist. Mi serve del carbone, però. Ma me ne sbatto del tuo carbone. Ma io non faccio niente, se no, perché ho bisogno di una roba nuova. Hai capito? Non c'è il carbone, dobbiamo trovarlo. Io ce n'ho uno di carbone. Io me ne servono due. E lo so che ne servono due. Io ho l'arco di ram. Vado in bagno e vado al supermercato. A tra qualche minuto. Ciao! Ciao! Anche io voglio andare al supermercato. Mi piace il supermercato. L'ho letto osservatore di toni. Invece per averlo toni. Aio. Cosa sono questi guanti d'arme del baluardo? Non è vero, poi. Troppo, troppo, 5 scaglie. 1032 guanti del baluardo. Come è, non va. No! Non asciughe. No, affogo. Oh, affogo. Ok. No, abbiamo fatto lì sotto. Tornati suca. Stamina suca, arrivo. Allora, puoi vedere se c'è il cabron. Abbiamo un evento da fare nel modulo 2. 2, 2, 2. Può essere. La mappa. Ciao, più tutti. Ah, qui c'è il rame, un po' di rame. Ma è solo che non c'è veramente un gatto in sto... Cioè, c'era solo Smeralda, prende il più possibile leader che andiamo via. No, ci provo. Subito. Vabbè, spero che ci sia anche negli altri mondi. Perché se ha spawnato adesso ci sarà per sempre. Eh, ma negli altri non l'ho visto io. Eh, ma magari bisogna aspettare proprio arrivare a questo mondo. Beh, ma qui la provi di più. Beh, Massimo torna indietro, l'altro si può trasportare. Ma prenditene di più di più. Eh, sto prendendo io, sto prendendo. Poi. Ah, un cazzo di terra. Cosa? Ah, carbone. No, è vero. Escono fuori ogni tanto i cazzi da sottoterra. Cosa? Eh, sì, Robin. Sono sopra la torre io. Va là. Ma la torre c'è anche sott'acqua può essere. Per cui è salito di levare. Bastardo? Ah, io ero... non ero io. Bastardo? Bastardo? Ma qui ce l'ha? Ecco, il busto di scarro, guarda. Col bastardo. Ma che fastidio che... Che... Non ci prendo con... La, che vaffangulo. Ma non c'è niente sopra la torre. E niente, ha fatto io. Credo di aver accettato una questa. Cinco osservatori di tuoni dobbiamo... Sì. ...e saranno i pipistrelli, questi... questi occhi... Un serio del 10. E poi anche io ti prendo lo smeraldo per quale motivo che non... Eh, perché poi me lo dai a me. Però mi serve qualcuno range qui, se no... Badate sempre a fare i cazzi vostri, voi. E anche che palle. No, sta tranquillo. Il pugnino nella testa diventa... Non li posso colpire, questi verde. Guardate che dove sei, YouTube? È tutto. Ah, ci capire qua. Moro? Ahia, che botta. Ciao, Wolf. Mi serve da qua, mi serve. Facci per me. Ahia. Arrivo io. È un petto il gatto. Eh. Tipo World of Warcraft, ci sono gli animali. Dovrebbe anche attaccare, ma credo che faccia a zero. Roba. Eh, sono gli uccisoli. Però sei mesi. La cosa che mi dà... Cosa si fa? Ma a me la cosa che mi dà fastidio è solo il tipo di combattimento. No, a me mi dà fastidio il fatto che, mentre sono in lock, non posso saltare. Allora come cazzo li prendo, quegli stronzi? Eh, ma perché c'hai bisogno di me? Bisogno di te. Per via. Per via. Oh, beh. Allora? Io dove sono. Non abbiamo ancora capito... Ah no, i soldi li ho imbarcanti. Che soldi su sono imbarcanti. Guarda che... Aia. No, non lo so io. A parte che io il sistema di combattimento l'avrei fatto proprio tipo Trove. Cioè tu spari dritto, miri e prendi... No, no, l'hanno fatto come Zelda, Ocarina of Time e Majora of Mask. Cioè che quando l'occhi diventa super cinema. Eh, ma... Oh, ho trovato un vetto di pezzo. E non mettetelo mai in prima persona perché... Ma in prima persona serve solo per costruire in realtà. Sì, giusto per... E che cazzo... Oh, ci ritorna da Hector la guardia di Hector. Eh, vado. Ma coglioni! E stai tranquillo. Qui c'è un... Ma coglioni! Aspetta. C'è un repressivo che c'è qui. D'altro che ci sono gli spazi ristretti e non si vede un cazzo dopo. Non si vede niente neanche... Ma non lo vedo neanche io, non è... Ma quanto costano? Madonna. Un gatto costa 1200. Io c'ho il topo. Topo 40 costa. Eh? No, ho già trovato qua un tizio che vende i petto. Aspetta. Ma questa non fottiva. Vado a prenderla questa. Ma lo so, sono un nostro porto. Ma io sto tornando indietro. Ma l'altra parte è dove ho ucciso l'altro osservatore di toni, lì? Ma c'è molt'ante qua. Ma no, lì ti ho detto che ho ucciso l'ultimo osservatore di toni, non c'è niente. E non c'è nient'altro in quella stanza? Cosa dovevo fare? C'è niente di cui non muoce. Cosa c'è? Barbara per lo schermo, c'è. Ah, scusa, se ritivo la porta, sono in scopo. Ma io non vedo niente, cosa... dove si passa qui? Ho sbagliato la strada. Sono entrato in una porta, ho sbattuto contro il muro. Infatti che cappella c'ha in testa? Infatti fatti come, sono un motociclista vecchio. Infatti non è enorme, non c'è la cazzo. Infatti è cappella c'era. Non c'era niente di là. Ma c'è una finestrella qui che dà sul niente, ok. Se faccio così io a quanto io... Veramente in questo mondo manca il carbone, vabbè. Eh, ma il carbone, vabbè, un culo era raro anche... Eh, comunque io volendo ho un bel po' di smeraldo, quindi possiamo anche andarci. Eh, l'avevo trovato il portale, l'avevo trovato io qua. Mi rubo le cose. Ma dai venite a vedere. Eh, di qua. Dove sto andando io. C'è il giaino pieno, aspetta. C'è il portale e il venditore. Ma perché? Eh, lì avanti. Nella casetta lì avanti. Ah, lì c'è. Anche il portale, vedi, di fianco. Caglia, non c'è tutto. Qui, andiamo. Prendete tutto e andiamoci. Oh, c'è una trentina di smeraldi. Spero che basti. Dai lì. Eh, la calda. Tra l'altro abbiamo preso anche i cosi gialli. C'è un buco qua. Ah, i cazzo terreni. C'è male, oh, che male mi ha fatto. Ah, vabbè, non c'è, 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 non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. No, faccio zero di danno, bisogno dell'arma nuova. Che male, se volete un topo è quarta monete. Un topo? Sì, 40 monete. 40 minuti. Sì, vedi. Mangio le bacche. Vengono gli ultimi gemeravoli. Spirito del fuoco è un ingrediente, sì. Qua c'è una bomba esclusiva Ma cosa serve che il piccone così si deteriorano? Che tanto fa la stessa roba? Voi ce l'avete la... No, andiamo avanti, perché non ando prima Sperando che ci sia il carbone, altrimenti torniamo indietro Piccoli blu ce ne hai? Io ne ho fuc... qualcuno Io ne ho uno Io c'ho quelli gialli Ne metto uno No Ah ne ho uno, si Portale attivo Ah già fatto, ok Bene Comunque se capite poco così settimana prossima uscirà un video sul nostro canale Dove capirete ancora meno quindi niente Cioè il crafting è un casino comunque Non potremmo fare una cosa molto semplice Se tu apri... Fricchi tipo sull'incubine Apri... Quello per fare con l'incubine e basta Non è che devo aggiungere... Ehm... Ti aggiungi un menu Eh ma è come... È come su Rust tipo che... Si ma... Si dato a... Ehm... 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 Comunque c'è il crafting molto più evoluto che Minecraft e il sistema di build... Ehm... No... Ehm... Si c'ha le quest Si c'ha le quest No... Vediamo un po' Suo mondo mi piace di più visivamente Ehm... Vediamo se c'è... Carbone eccolo qua Ehm... 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 No... Oh adesso si... Ma solo ha fatto il... Piazzate tutto Tungoletta Ma coglioni Aia che bugli che m'ha sferato Veramente m'ha sferato Ehm... Non posso! Eh... Iniziano ad essere tosti Sopo Iniziano ad essere 27 qui Che altro abbiamo anche delle armi dimoste? Ehm... L'arma di raro che non è male Ok piazziamo tutto qua Bomba esplode Ma io ho una bomba esplodiva è vero Sono a livello... Sono a livello 8 io Madonna Ma io devo andare come 9 Che lo so Sono a livello 8 io Sono a livello 9 Mi manca... Uno di carbone mi fa Ehm... Un po' di roba qua Ehm... Mi mangio un pezzo di fungo Ehm... Che buono Ehm... Ehm... Ho visto Non è vero quello di un nemico Ehm... Ah ma che palle l'acqua Ma il carbone è già finito Porca va... Ma devi cercarlo ultimino Non è il carbone di Minecraft Qui ci vado un po' a trovarlo Ehm... Noi una volta eravamo lì tipo Dove caccia il carbone? Dove caccia il carbone? Un Dragon Quest per PC? Ehm... E' quello lì che volevo comprare a Natale Poi non l'ho preso Ehm... Dragon Quest... Ehm... Ah... Ehm... 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 Sì... Le bacche... Si fa le fortune Con le bacche e l'acqua Ok torno su Magari... E' qui sopra Dei... 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 Dei bacche rossi Pastiglio Marco Come si sale Marco Ok avete visto sono salito stile Minecraft C'è qua è proprio uguale a Minecraft in questo caso E qua? Eh... Sali come Minecraft Ma la cosa bella Che non è che mi manca di sporgerti Avete un cubo davanti ad un altro Invece... Ma... Vedi subito e sporgerti Tutto nel cubo l'acqua E' ovviamente assoluto Devi fare... La caccia cosa che è già... Sporgerti Quindi che devi sporgere... Già... Ehm... Ehm... Ah no... Ma è ancora in accesso al dissipato Ho visto la... La prima stagione di Dexter tutta Ah... Mi è piaciuta è bella E mi è piaciuta tanto la storia Eh... La prima, la seconda Ma fai piena di nemico Ma fai piena di nemici Ma fai piena di nemici C'è un bel... Un bel twistone c'è la fin... Esso... eccoci, mi faccio dei buchi del terreno, se non vi dispiace, poi li ricopro buchi del sedere, ma fai piuttosto... rimetti le robe, Marco adesso le rimetto, fammi sistemare da bravo nerd scavatore eccolo, ok, finora va nertia, no no mi serve la fornaccia quello io ho tornato qua, la mettiamo, la mettiamo, non so, l'uccidi i mostri te la droppano, qua c'era una cassa, l'avevo vista, io io ho tre bombe, le voglio provare, lo avevo con te Moro te lo dico io dove te le puoi mettere le bombe nel cappello, le tiro, le tiro, finalmente la nuova toglie 6, ma l'hai rotto tutto, l'hai rotto, l'ho rotto, l'efficiente si, ma toglie pochissimo, ma perché credo serva per scavare io, sono a livello 8 arrivo comunque, no, perca un cazzo, no ecco, hai fatto sfogare, ah no, ma cazzo lì, ok, faccio tre volte tanto sfogato pulito si può sfogliare, ho 8 minerali, pesceggio pietra gialla, ho fatto luce, faccio, che figo mi ha fatto la, la mangrovo io sui kip ho già? non ho capito non ho capito, 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 non ho capito ah, si, dal 7 in poi è così no, 7 l'ha fatto tutto, no a me l'ha fatto tutto silenzioso siamo guardinchi, cosa stiamo cercando? è il portale, lo stiamo cercando era l'inizio e secondo me l'isola grande è quella di là è quella lì, si ma come ci passiamo, dobbiamo fare il ponte? no, non è, cioè, dobbiamo scalare bravo, bravo ah, il canestro, c'ho off guardate che io ce l'ho immaginato guardiamo apro tutto ma l'ho spaccato la porta lo uccido io, lo uccido dai, tanko io ma che cosa c'è qui? gli scheletrini, gli scheletrini ah, che botta che fu fresco Non vedo la vita, ok, andiamo, ah bene bene, vabbè ma vi raggiungo vi raggiungo, ok adesso Dove siete? Sottissimo, ma proprio sottissimo, ma come siete scesi? Ma buttandomi dall'alto in basso. Nella casa? Ok, ho raggiunto Moro, ok, che cazzo? Dai, scendeci, vedete il nome? Sì, sì, stavo arrivando. Moro? Arrivo, arrivo. Guarda che figa adesso la mia, faccio luce. Ma fai luce? Eh sì. Ma fai anche la magia di quel colore lì? Sì, sì, la lancio. Cos'è? Ha due bonde. Ma sì che si sente, Esprit, l'ho appena risentita la legge si sente, si sente di merda ma si sente. Dai, sorgiamo qua. Cos'è? Minerale, dodici blocchi di rame, quattro minerali di rame, due schegge di pietra a portale giallo. Torniamo su? Ne ho un po' adesso di schegge gialle. Vogliamo provare il portale giallo, ma c'era qualcos'altro qui da guardare. Non fado tutto io, Esprit. Allora, va a chiedere. Usate te la nevasporto. Anche se siamo un po' distanti. Chi è che sta andando a rispollire qua? Ma questo è un deficiente? Ma ci porti tutti? Ma guarda sto, asco testa di cazzo. Ma guarda sto imbecille, guarda. Hai svegliato a cacca. Ma chi ha riso di casa? Guarda sto deficiente. Guardate che adesso sono nel loop temporal. Ma guardate adesso... Eh va bene. Scusami. Siamo ritardati? Allora, tu chi ti vuole? Eravamo alla 10. Ah mica è livello 1 siamo. No, eravamo al 7. Era livello 7. Non so se... Vediamo se c'è un portale giallo. Stai buono con le dita. Eh no, aspetta. Adesso abbiamo gli cosi di là. Eh, aspetta. Eravamo al... Questo eravamo. Aspetta. Uno 10. Cos'è la morte lì? Scusa. Non succede niente. Era 1 10, eh? Sì. La collina è prima guerriglia. Siamo stati anche nel mondo dei sibellini ribellini, comunque. Al massimo potrebbe abbassare un po' il volume del gioco per migliorare un b... Ma tanto non si sente comunque, ragazzi. Vabbè, abbassano un po' quello del gioco, ma se non... Comunque. Siamo giusti? Allora, perché stiamo a vedere il 10? Il 10? Il 10? Non è giusto, dove cazzo ha le cose adesso? Oh, vabbè, a parte il 10 si è unito, se l'hai rilasciato? No. Buh. Eeeh, dobbiamo andare... dove cazzo? Da che parte era, Marco? Era su. Cos'era? Non di qua, però. Era di qua. Ah no, è... là davanti, è su. È là davanti. Beh, passiamo da qua. Ma c'è una cassa sott'acqua, la voglio. Aspetta che c'è uno scheletrino. Formula teschio delle mege... delle mege era? Delle magic. Aspetta, vediamo quanto tanto mi faccio con la magia. Io faccio 38 a colpo e 60. Eh, io ho fatto 100 io con la magia. Ah, ok. No, la pagina. Mmm... Va, vabbè, vediamoci. Era di qua? Quanto sono io? Vai, aspettate. Io. E' assoluto. Io, non spesso, se ne aprivi lì, stolti dopo. Qua sopra dobbiamo andare... Io sono Giovanni. Ah sì, dobbiamo fare un mezzo punticello qui, storti. E non l'ha capita perché conosce le cose. Non l'ha capita, Espre, non l'ha capita. Sì, non l'ha capita. Sì, non l'ha capita. Giovanni Storto. Storto! Giovanni Storto chi è? Chi è Giovanni Storto? Il tuo parente, Giovanni Storto. Ma il pallo di lì lo... Che devo rubare qua? Il foglio di palma. Le cassa le prendo? No, l'olio. No, le prendo con le discusse. Cavaliere vacuo del cuore, attenzione, l'or. Una guarigione posso fare. Non c'è una guarigione. Quanto soldo. Quanta vita sto perdendo. Eh, in mezzo. Oh. Oh, qualcuno ha ancora degli smeraldi? Io sono stronti onora. Io ne ho presi. Ma lo sapevo io che ti trovavo. Sto facendo guarigione per voi. Ma caso me ne frega la guarigione. Ne ho 13, tieni. Tanto credo che servano solo a me gli smeraldi. L'azione del mana non mi serve. L'immeraldo verdeggiante trafinato. Ma voi dove siete? Ma siete ancora là? Ma non dovete venire qua? Ma vaffanculo le vostre robe. Ma cosa vuoi, pe? Eh, gioca da solo allora, mo. C'è una signorina qui. Ah, combat, combat. Ok. Ma posso farla su di voi? La schitta potenzial massima. Vita già al massimo. Ah, aspetta. La schitta potenzial massima. Per due minuti. Guarda, ti temi. Non è che ho sbagliato, infatti, è questo. Io ho voluto potenzialmente fare. Stai avanti l'arco di rame. No, l'arco di rame è forte. Chi è? Chi è? Grazie per la sub. Grazie mille. Metal Mai. Io potrei fare anche la balestra così per divertimento. La faccio. Ho deciso. Io non ho ancora capito comunque come si riparano le cose. Come no? No. Eh sì, e poi come la usi? Eh, lo devi mettere nell'inventario veloce. E poi lo premi col tasto. Non devi selezionare. Se l'hai messo sul tasto 6, lo devi selezionare. Andiamo a vedere. E lui ti aggiusta l'arma che hai in mano. Tu l'avevi in mano? Ti hai bloccato il gioco? Ok. Comunque grazie a Ludotech. Aspetta, Raywork, Depava e Ludotech. Ah, tutti grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. No, tre in contemporanea. Sono fatto anche Renato. Grazie a tutte e tre. Andiamo a vedere. Sono fatto. Sono fatto più subito la mattina che anche da sema. Eh sì, è perché la gente che ci può vedere la mattina. Sì, devo dire, dillo, te, non so io. Faccio il petto, io posso equipaggio. No, va che bellino la balestra, fammela provare. Facciamo le due due, dai. E poi la mia vita. 42, no, toglie come l'alba, praticamente. Però qui dice la pietra per... Aspetta. No, perché non mi fa riparare la... No, dove ha questo casino? Eh, dove è? Certo, signore. Comunque se le lì non ho mai tornato a chiare. No, no, no. Torchino. Dopo. Sono caduto sotto il buco. Aspetta, vediamo se ti posso curare. Qualcuno è ferito. Sono all'avventura, questi qui a craftare sei giorni, non posso, no, mi sa che posso curare solo me stesso. Non posso, no, mi sa che posso curare solo me stesso. Non devi stare zitto. Ma venite qua. Devi stare zitto, la gente vuole noi, non vuole te. Sì, vuole guardare voi che trastullate le palle. A me stiamo combattendo, non ci sono dei miei. Se non mi faccio le cose per andare all'avventura, come ci vado, cartino? Eh, non ci vai. Eh, allora fai zitto. Ma venite qua, Yee. Aspetta, faccio una cosa veloce e poi vado in benvenzione. In giro con le cose di legno, poi cosa faccio? Gli tiro l'arco in testa, senza le frenze, perché è rotto. No, ma lei non ha già visto l'insperto. Eh no. Quante è un leader questo? Leader mondiale in campo, arrivo io. Ti salvo anche se mi dispiace, salvarti. Sono affogato, aiutami! Bravo, bravo. C'è una cassa, eh? Aspetta. L'ho aperta, minerale di rame, minerale... E senza d'acqua. Cosa vuole la signorina qui? Linda la contadina. Sono felice di vederti. Che bella è, sembra Yves-Marie, questa mi ci finanzio io. La mia falce di rame si è rotta e ora non posso più arare la mia terra. Pensi che puoi rifarne una per me? No, non c'ho voglia. Ora sembra Yves-Marie, posso fidarsi? Fai una falce di rame. Fai una falce di rame, Esprit. Non ho capito la risposta. Perché beh, non ho capito neanche la data. Ah, cos'era? È bella che è lei. Posso offrirti un caffè? C'è una cassa, una bussa, se vuoi, e una cassa a buscaioli. Marco? Ciao, ciao. Guarda. Sei un maiale? Per questo periodo sono libero. Sono un giretto, no? Non c'era Sara in chat. Sara? Sara, non ti preoccupare. Sto lavorando. Ah! Non mi ti preoccupare. Ho un mezzo cuore, ma. Cos'è che ho io? Ho un mezzo cuore, aiuto. Minerale di rame? No, il blocchio. Ah sì, minerale di rame. L'iezaro, ho bisogno, io ho bisogno. Arrivo, ce l'ho dato il set. Mi sono buttato giù nel... Eh, ma cos'è bisogno di me? Eh, perché sto morendo. Dele trasportati, usa il... È vero? Quanto carbone qua? Luca, carbone. Bravo, bravo. Giovanni Storto. Giovanni Storto è vero, è convinto. Ma dai, io voglio furarmi, ma... Aspetta, provo a farmi male. Non vuol dire che io voglio affogarmi. Non lo fare, non lo fare. Faccia di rame, ma non posso fare la faccia di rame, muro. Ma che cazzo ne so, quella lì, me l'ha chiesta. È lì che te la fai il culo. Ma poverina, già è malata. Ma che malata che era mia fidanzata quella. È mia fidanzata quella lì. Faccia di rame. Ma non posso farla. Non posso farla, non posso farla. Non posso farla. Vedi, vedi, Sara, è un maiale. Ma, allora, cosa ti dici? Posso fargli un piccolo di rame, è uguale? Ma mettitelo nel culo il piccone di rame. Cosa ci era? La terra con il piccone. A parte che anche la falce non ci era la terra. Quindi ha sbagliato tutto quella signorina. È proprio una stupida. È proprio una zappa, la vera, coglione. È spagliato, però... Però chiede la falce, chiede. Aspetta, fai vedere se posso commentare qualcosa. Dove cazzo è il portale però qui? Io vado giù qua sotto. È un po' di merda, adesso come risalgo. Per la falce di rame serve il ferro. Probabilmente, sì. Ma di rame servirà il rame. No, per potenziare tipo una... Ma me ne sbatto di potenziare. Eh, se non puoi farlo, non c'è nell'elenco delle robe. Ma in che elenco di robe di chi? Dei crassi, coglione! Ma di quale... Di tutto! Moro? Mi ha risentito il gioco come ieri, comunque. Non so perché lo fa. Il computer di merda, Marco. Comunque, io non posso riparare... Io non ho l'audio. Non posso riparare la mia arma. Perché non è influenzato dalla resistenza la bacchetta magica. Quindi sono fottuto. A cosa servirà qualcos'altro? Eh, ma io mi sto cercando ma non c'è. Vediamo questa roba dietro. Forse devo potenziare l'altare. Devo barra di ferro. Vediamo. Come potenziare l'altare? Eh, mi servirà per potenziare l'altare. Eh, i sacchettini sono otto di valore. A me si vede trasportati nel mondo di prima. Eh, no, vogliamo tutti qua che andiamo. Ah, è vero che sposta tutti poi. Fastidica cosa. Eh, ma io ci ho fatto qui. Prendi materiale? Sì. Non so, c'è un punto esclamativo enorme sulla fornace. Eh, dove sto facendo, dammi il tempo. Quanto ci vuole? Eh, sono sette lingotti di rame. No, ma non sto morendo. Cioè, sì, sto morendo ma non perché sto combattendo. No, non di rame. Aspetta, i lingotti di rame ce li avevo io, mi so. Ah, beh, ho già fatto anche lì. Ah, no, ho blocchi di là. Sì, non c'è la falsi, Moro. Perché non so come arrivare da voi senza morire. È quella la cosa. Materi da sposta. Ah. Eh, non posso te lo dimenticare da voi. Ma c'è la falsi, la falsi era. Ma con gli altri. Sono deficiente, io te l'ho detto. E tu c'è un cretino. Eh, ne avevo visti, l'ho visto ovunque, non c'era. Ma mi ha dato seme dell'albero smeraldo. Se li pianto da... Escegli gli smeraldi. Andiamo a con i miei, dai. Prego, com'è possibile che da un seme esca uno smeraldo? Beh, un albero di smeraldi. Sì, è un frutto. Beh, non è se ne ho gli altri smeraldi. Ma io, a parte che... Usami, perché sei tutto triste e mi dispiace parlare con te, quindi ne ho dubbio di che mi scuso. Marco? Ciao, ciao. Allora. Ma non si possono fare i blocchi di ferro? Mangi un uovo. Ah, che bontà. Più venti di fi... Cosa? Più venti di salute. Ah, ok. Ah, quelli di pietra cosa danno? La pietra. Basta. Bravo. Cosa c'è la pietra? Cosa c'è la deficiente? Cosa vuol dire? Scusa, è una pietra. Ormai siamo arrivati al livello... Faccio l'armatura del vichingo, io. Sì, va bene. Faccio l'armatura di... Sì. L'armatura del vichingo. È tutta da minatore. Ma che cazzo? Ma sta tranquillo, cosa c'è? Qui chiede, barra di ferro? Ma dove cacchio si possono fare le barre di ferro? Eh, non abbiamo il ferro, non c'abbiamo. Eh, non abbiamo proprio... Merda. E come l'evolvo, io la poso? È più avanti che dovrei evolvere, io... Che parla, il mago è così sfidato che deve aspettare... È una merda al mago, ma in tutti i giochi è una merda al mago. Fa schifo. Solo voi due le giatte, il mago. Sì, c'è una merda al mago, a me piace. Ma perché voi siete poverini? Certo, certo. Sempre così se la svegna lui, puntando. Mi prendere il carbene. Chi è? È Motta One. Motta One. Grazie. Motta One. Io ho trovato delle cose mistiche qua, non so cosa si servono. All'essenza d'acqua. Adesso io qui inizio a rompere tutto e andiamo via. E l'essenza d'acqua. Vabbè, andiamo. Io devo andare a preparare da mangiare tra un po' e vaffanculo. Quindi cambiamo il mondo, no? No, abbiamo fatto un cazzo. Dovevi craftare, cosa crafti? Ma andiamo a esplorare. Porca puttana. Sei zitto, se non sai giocare a questi giochi, io voglio giocare. Prendete qui, prendete sta roba. Ma che prendete qua, ti tiro un pugno nella testa, vedrai. Porca vacca, oh, io vi sparco. Dov'è il portale? Non dobbiamo portare adesso, non c'è un po' un po'. Ah, non l'abbiamo mai trovato, non l'ho mai trovato. Vediamo le mele qui. Grazie, grazie. C'è un mille mele. È di qua, forse. Comunque. Ma poi la faccia l'hai fatta, eh? Ma no, sono stronti. Sono sì, su te, gli hai bisogno di craftare. Ma le mie palle craftare. Eh, mi dispiace. Attenzione. Ora, se la menta di tutto non fa una mazza, non so. Ma io... Delega, delega. Ma che è quello divertente? Io sono quello divertente. Chiro due calci e vedrai divertente. E' efficiente. Ma qui non c'è il portale. Cosa si mangia in casa Morelli? Oggi... In realtà, c'è già pronto il sugo con le melanzane e la pancetta. Il sugo con il sushi. Che schifo. Come si attraversa la traversata? Non è quella torre l'andiamo. Che torre? Dove state guardando? Dove sono i vostri occhi da elfo? Devi guardarci tu, infatti. Dove è portare? Non c'è il portale, veniamo la torre. Adesso è una serie dove portarle. Ma la torre è inutile, Esprit. Allora sei uno stronzo, Esprit. Ma non c'è il portale. Non c'è niente, no. Vai sopra e guardi e dici Bello il panorama e torni giù. No, di solito le torri vanno sottoterra. No, non è a caso di questa. Ah, peccato. Esprit, là ci sono già andato io. Ovunque ho andato. Eh, sopra lì sì. Ogni angolo. Sì, ogni angolo. Ma quindi la mia fidanzata non potrà mai avere la sua falce di rama? No. Quanto rama c'ho ancora? Un lingotto. Sai che c'è 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 le ciarelli qua a molti tempi? Quale è la falce di rama, quel coglione? Mi sbatto dalla falce di rama. Ma allora è bella la rete. Quanto, quanto gli lingotti ci vogliono? Due. Eh, io c'ho uno, non posso. Nenca a voi non ne ha tanto. Scusate, ma non avevamo attivo un mondo nuovo noi che avevamo saltato. Un razzo. L'abbiamo preso. Cazzo. Che male. Non ce la fai a tancartelo? Ah. Aspetta che devo funzionare. Ma sì che eravamo tornati indietro perché era troppo difficile. Andiamo a quello là. Aspetta che io Moro si incontro il boss delle cose. Ho sbagliato. Moro sei sparito? Sono andato sotto. Che scherchi di uno. Sono sotto, ho sbagliato. Anch'io, aspetta, come si esce? Ma quanto sotto? Ma combatti che è sceso lui. Non so come chi esce. Ma la fa' al culo è sceso lui. Aia che pugni. E gangecco questo. Sto tirando le frecine. Ma cazzo questo, che male. Sì, non so. A puttana. L'ho rotto il golem. E va a vangulo. Ma che cos'è? Non devo portare. Non è che danno le scaglie sti cosi? No. Assolutamente no. E' senza acqua. E' senza acqua quella che so io adesso non ho capito. Non ho capito quello terzo. No. Che cazzo, viezzar. Non c'è il porto. Non c'è il pornale. C'è modo di salire. Ma usa teletrasporto. Mi sa che non c'è perché non c'è. Guarda la mappa. La teletrasporto mi riporta alla piattaforma. Ok, qui. Ah, dici che non c'è. Dici che non c'è. Eh, non c'è. Non gli viene nessuna parte questo mondo. Ma dobbiamo tornare indietro. Vabbè perché siamo al massimo. Ma allora. Baglia di granato. Dobbiamo tornare indietro. Andiamo al boss. Che boss? Ah, è il boss quello. Eh, guardi. Non c'è andiamo al boss, come? Eh, c'è un portale. Giallo, magari. Esatto, abighi. Prego, Corny. Faceva veramente gamjack. Faceva la mossa quella con i pugni davanti che... No, non sto guardando quando sono scusato. Che li caricava a pompa. Mi ha fatto un cane. Ma c'è una passi cazzesuola. Maledetto stupido, guarda. Allora, guarda. E allora. E allora. E deficiente imbecille. Allora. Ah, un cazzo sottoterra ancora. Lui per il quotidiano pochissima vita. Li uccidi subito. E fa una fortuna. Allora, qui ci sono due torri. No, abbiamo esplorato un cazzo. In realtà. Mi sono levati di culo subito. Ma perché a livello di batteria non c'è niente. Ah, quello è stato. Il rame. È stato quello che avevo messo io prima. Adesso ce la rimetti. No, ma che ci va l'albero. Ah, dentro di un culo adesso. Vai, Esperit. Facciamo l'amore. No, Marco. Ah, ma aspetta. Prendete il... Lo sveraldo da che sono qua. Ma lo sveraldo serve solo a te. Prendetelo tu, scusa. Ma no, serviva anche Esperit. Io mi sto farmando il rame da solo. Da vent'anni. Ma il rame ce ne ho io un bel po'. They're delicious. Non la fai per andare molto. Da da da. They're delicious. Perché è sto gacchio di portale, voilà. Voilà. Perché è il portale. Ciao, c'è mezzo. Devo andare a fare dei coglioni. Ok, mi sono raffinato l'arco. Ora sono Marco. È proprio raffinato. Arco. Ma qui è un gigante. Qua non c'è un cacchio. Chi è questo? Sono a livello 18. Sono quasi salito. Manca due cose di esperienza. Che fastidio. Devo essere così fullo la sua. Loro anche. Ah, per fermarla. Ma non posso. A livello 18 si blocca un altro paderno. Credi del potere delle carte. No, guarda. Per carte intendo droga. Va bene. No, non c'è. Ma non ci sono altri portali. Ma noi abbiamo saltato il mondo. Ci sono tre portali qui. Perché dobbiamo guardare nell'isoletta quelle sospese. Ah, perché bisognava andare giù effettivamente. Ma noi abbiamo saltato. Sulle torri ci sia stato. Il mondo 6 l'abbiamo saltato. Sì. Beh, e lì c'è anche un portale. Non lo vediamo se l'abbiamo saltato. Eh, perché avevamo detto... Perché siamo passati dal 3 al 6 e siamo tornati indietro. Un portale qui dovrebbe portare a un portale. Prefissimo. Però dovrebbe... Non dovrebbe portare l'isoletta. Prezzo un collegato. Vogliamo andare al mondo 6? Io vado giù, basta. No, non fare, non fare. L'ho fatto. Bello questa zona. Chi è? Ragniard. Grazie a mano per armi. Sono fallito di feliti. Tiro sulla forza. Ancora di un paio di soldi. La destrezza è ancora di forza, perché non me ne frega di nient'altro. Voglio essere fortissimo. Cosa è questo? Soprerà. Un chiu-chiu-chiu-chiu. Quanti siamo stamattina? 512. Ma grazie! Grazie che siamo qui. Grazie. 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 Allora, le due torri. Ci sono le due torri che vanno verso l'errore. Cerito, ci riguardiamo sotto lo zinguro. Allora, una torre. Va bene. Ma c'è un tipo, una torre. Ci parlo. Adesso, per quel qua di Moro che si è fatto cadere. Non so come si sale. Eh, aspettiamo che qualcuno si ti... Basta. Vuol dire, aspettiamo che qualcuno si ti. Beh. Non capisco che non stiamo andando dal mondo seco che non abbiamo mai sponato. Ma perché ci vuoi sempre potare i boss? Ma perché qui c'è il boss? Ma vogliamo andare al boss? Ma che cacchio vuoi fare? Perché ci muociamo, Chris? Eh, ma magari è sotto terra. Aspetta. Eh, sotto. È la torre. Ah, ti fa proprio la torre, vero? Ah, eh. Ah, ecco perché non stavo andando lo scaveggio. Stavo tirando le balestrate contro il minerale di tirami. Un minerale. Un pistolino, un pistolino. Due pistolini. Pieno di Esfra, è qui. Cosa? Ti senti, tu, Mark? Eh, vabbè. Non l'ha sentito lui, quindi vabbè. Allora, fammi guardare da questa postazione alta. Nella casa cosa c'era? Oddio. Non c'era il dungeon sotto, non c'era il dungeon sotto. Dov'è vero? C'è il portale qua, ma è quello... È quello che abbiamo già usato. Eh, sì. Vado sul testo. Mi tocco le testo. Belle, belle, belle. Ma qui, scusa, dove può essere? C'è, è finito il mondo. Ma è perché... Ma è perché è... Chiaro. Il lock. Il lock. Grazie. Il lock. No, ma perché siccome è girato la domicamente, potrebbe essere anche mezzo sotterrato. Amici, c'è il letto. Ah, ci dovrebbe comunque vedere. Ma se è il portale che abbiamo tutto noi, mica mai bisogna cambiare questo portale qua. Quanto costa su Steam questo gioco? Non costava un... Quindici. Ah, vabbè. Forse è il solito più o meno il solito prezzo. Eh, comunque... Non è assolutamente un brutto gioco. No, anzi, è quasi un prezzo. Però non me la sento di consigliarvelo perché... Beh, però... Potrebbe soffarvi subito. In realtà... Da soli, sicuramente, non so quanto vi possa. E' un'alternativa a Minecraft, ok? Però, cioè, più che Minecraft, è un'alternativa a quei giochi tipo Trove. Sì, è un misto tra Minecraft e War, Trove. Beh, preferirei più Trove. Eh, anch'io. Anch'io. Non lo so. Se devo fare una cosa del genere... Ma io preferirei più questo. Mi dà fastidio che qua il crafting è alla Minecraft, nel senso che devo fare con dei materiali che trovo... Andando avanti nel gioco, armi diverse. Invece su Trove le trovo già fatte. Mi piace di più, mi è il fatto di loutarle. Sì, anche a me piace. Cioè, Trove più MMO. Comunque... Non mi piace craftare, stare qui a craftare le robe. Prefisco trovarmele uccidendo un boss. Certo, eccetera, eccetera. Ma che sono cazzo sotto. Niente, mi sono stufato di saltare. Cosa vogliamo fare? Sono qualche salto da mezz'ora, non facciamo niente. Non c'è il portale. Non trovo il portale. Non c'è il portale. E se non pensi questo portale qua? Vaffanculo, sono dentro il cammino. Ah beh. Non ho preso mica poco, però. Ragazzi si esce da qui. Bravo, bravo Mark. Raffinato non è offensivo. Ah, ma è un vendor? Sto ponderando la scelta di contare Diablo 3 per PS4. Non ho mai giocato Diablo in generale, me lo consigliate? Eh sì. Vessi. Gioca è slash, Diablo è il re. Poi dicono che su PS4 va bene. Anche con i comandi si riesce a giocare bene. Sì. Vabbè. Non è altro mondo? Sotto qui dentro. Anch'io. Aspetta che vedo sti due roba e io mi levo di culo, vi do le robe. Sì, no, ma che diamo adesso. Non mancano tre minuti tanto. No, ma fatemi. Ormai andiamo la prossima live. Ma non posso andare in due... Siamo 600, non è vero. Ho visto male che... Vabbè, comunque io devo andare a preparare il cibo. Ma non è che mi dà. Quindi vi lascio... Ma me ne sbatto della live io. Devo andare a preparare da mangiare. Ma mancano tre minuti e salutiamo tutti ormai. Ma ho capito, ma devo andare a preparare da mangiare. Mancano tre minuti. Fraterno, torna e non c'è un cacchio da niente. È domani 12, fratello. Quindi io saluto tutti... Saluto tutti, grazie per avermi seguito. A me e basta. Guardate, chiediamo tutti. Ci vediamo stasera. Ciao. Infatti non ho capito cosa sta facendo ormai. Ho detto che stiamo chiudendo, però. Perché niente. Ci sentiamo stasera alle 8. Passate da Karimo. Passate da Karimo, ma tanto ci è passato lo stesso perché è famoso più di noi. Sì. Mi si è incastrato il gioco. Bene, bene. A stasera.